anche firenze cambia rapidamente sotto gli occhi dei suoi abitanti perché nel 1865 l'architetto giuseppe poggi presenta al comune il suo piano per rinnovare la città vogliosa di acquistare l'aspetto di una capitale piazza cavour oggi della libertà con l'arco dedicato ai lorena e grandi viali alberati e anch'essa un'invenzione del poggi oggi una city operosa dove a sede dal 1961 la fondiaria assicurazioni oggi fondiaria sai la storica compagnia fondata a firenze 15 gennaio del 1879 insediate all'inizio nel palazzo covoni di via cavù la compagnia si era spostato nel palazzo al numero 17 di via tornabuoni con la ricostruzione del centro intorno a piazza vittorio oggi della repubblica aveva poi trovato sede nel palazzo levi insieme ai famosi caffè all'aperto la facciata della sede attuale mantiene il carattere di decoro ottocentesco che oggi voleva conferire a firenze capitale oggi la compagnia fa parte di un gruppo più articolato fondiaria sai mantenendo anzi valorizzando il proprio legame con firenze la propria identità attraverso l'impegno in importanti progetti che coinvolgono il futuro della città